Partiamo da un dato di fatto, l'insicurezza è parte di noi. Dubitare di noi stessi non solo è normale, a volte anche utile. Il dubbio d'altronde ci aiuta a trovare alternative, elaborare nuove idee e anche a metterci in discussione quando serve. L'importante è che non diventi così forte da paralizzarci e impedirci di procedere quando è il momento di andare avanti. Ci sono almeno tre cose che puoi provare fin da subito per evitare che questo accada. Primo, quando l'insicurezza spalanca la porta di casa senza essere stata invitata, chiediti come sarà il mio futuro se non ci provo, come sarà il mio futuro se lascio che vinca lei e soprattutto mi piace l'idea di questo futuro. Farci questa semplice domanda ci aiuta a capire a che cosa stiamo rinunciando nel momento in cui lasciamo l'insicurezza prendere il sopravvento, nel momento in cui le permettiamo di assumere il posto di comando e soprattutto ad evitare di girarci indietro un giorno e pensare se solo ci avessi provato. Due, dai un nome alla tua insicurezza, a quella vocina che a volte parla davvero troppo quando non è interpellata. Appena le dai un nome è più facile guardarla negli occhi e prendere le distanze da lei ricordando che è solo una piccola parte di te. La mia si chiama Ginny nel caso te lo stessi chiedendo e naturalmente quando Ginny arriva senza il dovuto preavviso la invito a bere un tè, la ringrazio per la sua premura e la informo che non sono interessata ad alcun contributo da parte sua in questo preciso momento. Non sempre funziona ma quando funziona funziona. Numero 3, ultimo ma non meno importante, allena il coraggio ogni giorno. Comincia con qualcosa di piccolo, davvero minuscolo, qualcosa che ti permetta di uscire dalla zona di comfort ma che senti comunque di poter facilmente superare e poi ripeti. Questi piccoli atti di coraggio andranno a riempire piano piano il tuo conto in banca dell'autostima e possono essere tanto piccoli quanto, non lo so, fare un parcheggio ad esse sapendo che qualcuno potrebbe vederti impacciata e giudicarti o condividere la tua opinione durante una riunione di lavoro quando di solito stai sempre in un angolo. Questi piccoli depositi sono la prova reale che hai quello che serve per farcela e per non arrenderti e ti serviranno per credere in te stesso quando il dubbio sembra incrinare ogni tua certezza. E siamo arrivati come sempre alla parte più entusiasmante di ogni CC Weekly, quella in cui sei tu ad intervenire. Condividi qui sotto il nomignolo con cui scegli di chiamare la tua insicurezza. Più buffo è il nome che le trovi, più facile sarà indebolirla quando prende il sopravvento non invitata. Poi dimenticati di tutto quello che pensi di saper fare o di non saper fare, di quello che pensi sia o non sia il potenziale che hai e comincia con un piccolo minuscolo atto di coraggio. Noi come sempre ci vediamo al prossimo CC Weekly. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce!